un pochino fuori la testa un po' di due e dentro, e dentro un'altra bella carpotta ragazzi eccola qua ragazzi, anche oggi 6 kg precisa questa è molto snella bene, la lasciamo andare bella, eh cavoli c'è bella, non sarà mica tutti 10 kg no, allora sarà 7 kg hai visto? stavo da dormire se tiravo su quando stavo per smontare poi magari non viene fuori però viene fuori perchè non viene non viene fuori non viene fuori non è fuori poi non viene fuori ma non viene fuori E' dentro? E' dentro? Mi sa che sui 8 ci siamo? Sì, sì, ci siamo sì. Ecco, adesso devo fare come prima, che mi vado dentro lì. Eccolo qua ragazzi, il pesciolino! Eccolo! Che bello! Eccolo qua ragazzi, 9,5 kg! Una bella bestia! La lasciamo andare! Bene! Eccolo qua! Con la rovesciata! Spettacolo! Ancora qua! Eccolo 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 qua!